Questo è davvero interessante per i futuri CPU Ryzen 9000 X3D. Vi ricordate il super famoso BIOS che dovrebbe dare prestazioni non indifferenti? E l'IGES 1.2.0.2.0.1 che ottimizza ovviamente per gli X3D. Quello del Gigabyte prometteva cose fantasmagoriche. Speriamo che non si basi soltanto su un overclock perché se no a friggere la CPU ci si mette cavoli. Questo dovrebbe portare ovviamente la compatibilità con gli X3D, l'ottimizzazione delle latenze dei vari CCTV. Ricordate il problema delle latenze Zen 5. Poi c'è anche il famoso performance ottimizzatore per Zen X3D. Vediamo se ci dicono qualcosa di più. Questo è quanto si metto. Vedete? Add X3D Turbo Mode Support. Questo è per le X870 e però abbiamo visto che l'altro BIOS come volete di Gigabyte è praticamente compatibile con molte schede AM5. Non sappiamo per il momento, cerco informazioni, se questo BIOS è lo stesso di Gigabyte oppure Gigabyte ha dato AMD questo ovviamente update per poterlo poi distribuire per tutti i tipi delle schede video. Probabilmente sì perché si parla di, vedete, l'ultimo BIOS è disponibile per l'800-600 serie motherboard ma la miglior parte arriva con il preload di Gigabyte, il new X3D Turbo Mode feature. Dicono che qualcuno dice che è una specifica ufficiale AMD. Vedete? Io non l'ho letta la notizia perché mi piace leggere in tempo reale. Cioè, tuttavia non è vero. Alcuni altri venditori di schede video, spacciatori di schede madre stanno lavorando alla stessa cosa però per le loro schede matri. E come non è vero? Se lavorano la stessa cosa per un'altra scheda madre significa che probabilmente c'è una tecnologia condivisa da AMD diciamo che questi leakers dovrebbero mettersi d'accordo. E questo ve l'ho fatto vedere l'altra volta. Praticamente si passa, vediamo se si ingrandisce bene, adesso vediamo se si vede bene l'immagine. Ok, non grazie. Eccola qua. Vediamo se si vede bene. Si passa da 307 fps in queste applicazioni a 322 fps. Ok. Sandra Forza, non so che cacchi è, non so se Forza Motorsport, il cinese non è il mio, 97X, di 5616 G2. Praticamente non è neanche un X3D questo. E il consumo sarebbe stato 88 watt. Ovviamente qui, qui sotto c'è un X3D. Vediamo se la traduzione funziona. Ovviamente non funziona. Allora, vediamo se esce qualcos'altro. Vediamo. No, ti pareva che doveva rompere. Ok. Niente, non ce lo fa vedere perché i cookie, queste rotture di coglioni. In pratica, questo potrebbe essere un 9700 che ha fatto un salto di prestazioni. Però vediamo e aspettiamo notizie ancora più ufficiali perché, a quanto si vede, stiamo ancora con, aspettando che cos'è. Allora, questo, caratteristica, dovrebbe dare 35% o più di performance nei giochi. Ma di che cosa? Con i nuovi CIC, i chips. Ah, ecco qua, praticamente fanno, dovrebbero, ok, dicono che ha le maggiori performance che gli SMT li, a quanto parere, li sembrano, il locking, quindi li bloccano. E poi bloccano, probabilmente, le operazioni in un single CCD. Che avrà, ovviamente, maggior beneficio con il dual CCD 3DV Cache. E qualcuno, ovviamente, ha scoperto un buon vantaggio di prestazioni, anche con il 7800X3D, il 7600X3D. Odi, a leggerla così, dovrebbero fare, praticamente, quello che facciamo con con Windows, con il suo schedule. Settare le affinità e, praticamente, lasciare che tutto il gioco, praticamente, vada su quel coro. Probabilmente, questi lo fanno in modo sicuro, nel senso, se leggete la documentazione di sviluppo di Windows, ti dicono, settare le affinità e, preferibilmente, va su quei CCD. Probabilmente, con un hack nel BIOS, o nel BIOS, come volete, riescono a mettere queste operazioni dentro il singolo CCD e, quindi, incanalare sempre, come vi ho detto tante volte, qui all'inizio del film non è difficile da fare questa cosa. Ci vorrebbe, magari, una API fatta apposta da Windows, che è un sistema operativo fatto apposta durante il game mode, che, pum, spara lì e rimane lì. Gli altri thread possono anche aspettare. E, praticamente, questo vantaggio si vedrà anche nel 2-6cd 3dv-cache e, anche nei vecchi, 7800. è un po' un criptico, perché dico una cosa, poi dico un'altra. Ok. Ok, la versione dual CCD, quindi, i 12 core, 16 core, 2025. non si sa ancora se avremo 2 3dv-cache su i 2 CCD. Qualcuno, vedendola qua, dicono 128 MB di L3 più 16 di L2. Potrebbe. Potrebbe. Vediamo qua che cosa ci dicono. Ok, per il momento non c'è niente. Probabilmente AMD ha scovato un problema nelle performance dei giochi, nella capacità, la vedo così, nel processore di utilizzare l'SMT, che sarebbe praticamente il simultaneous thread, saprete, il thread, quelli logici, non quelli fisici, e, probabilmente, lo scheduler di Zen5 aveva dei problemi nel mandare le applicazioni più pesanti sui core fisici. E, probabilmente, questo switch fisico e logico portava a un degrado delle prestazioni. Mi viene da dire così. L'unica cosa per guadagnare il 35% è quello. Quindi, che cosa succede? Non c'era una coerenza con i dati e c'era, magari, la possibilità di fare anche un'altra cagata. Fate conto, io ho 8 core, ok. Fistici e logici. Quindi, sono accoppiati a due. Quindi, fisico, logico, fisico, logico, fisico, logico, eccetera, eccetera. Quindi, cosa succede? Se io mando un thread nel core, nel primo core, se io continuo a mandare quel thread lo stesso, quel core, che cosa ho di vantaggio? La coerenza della cache. Non devo, a seconda dello scheduler, svuotare la cache e mandarci un altro thread. Poi, magari, quel thread che stava là mi va a finire sul secondo core. Ed ecco fatto che devo ricaricare la cache. Quindi, mandando e spedendo sempre le mie applicazioni, sempre sugli stessi core, quindi non facendo fare lo scheduler di Windows, che potrebbe fare dei casini, che non sono casini, se lo spieghiamo, c'è una possibilità di guadagnare le prestazioni. Questa è l'unica cosa che mi viene di pensare utilizzando questa qua. la coerenza dei dati. Non so per chi ha mai avuto la sfortuna o la sfortuna di utilizzare i Pentium 4, che in teoria era una buona cosa, hanno allungato la pipeline a 10 stati e poter aggiungere velocità anche di 10 giga, è una cosa assurda. Però il problema è che le prestazioni non scalavano, anzi, era davvero una cosa in vergonda, perché branch prediction, le cache, non erano quelle di oggi e quindi succedeva troppo spesso che c'era dei cache missing e quindi il processore che doveva fare? Svuotare tutta questa pipeline di 10 stati e quindi ricaricarla. Una cosa atrofica, quindi più ce l'hai fonda questa pipeline e più in teoria puoi spingere con il clock, ma c'è un problema. Se fai un cache missing si accasciava tutto. Quindi svuota quella pipeline, svuota la cache, caricano i dati, oh, sbagliato un salto, svuota dentro, svuota dentro, c'erano delle prestazioni che purtroppo non erano lineari e non andavano molto molto bene. Infatti le successive release, i repentimum successivi, che dovete fare in te? Accorciare la pipeline, perché quando hai una pipeline lunga che cosa succede? A 10 stati io posso anche caricare 10 istruzioni, magari se sono a un ciclo o a due cicli, perché così posso, mentre eseguo una, posso portarmi avanti tutte le altre. In teoria puoi fare delle cose incredibili, però in pratica allora non era consentito perché, ripeto, non avevamo questi vantaggi. Quindi mi viene da pensare questo, che facendo questo modifica, lasciando sempre, pensate a un gioco, no? che hai 8 thread, fate conto un gioco, sia di guida, che volete, grafica, fisica, l'intelligenza artificiale, il caricamento dei dati, ok, no? E quindi tu assegni questi core. E a un certo punto lo scheduler comincia a farti fare cose strane e quindi il pari di tempo è ladenso e quindi le prestazioni vengono risucchiate via. Spero di non avervi annoiato troppo, però mi piace spiegare le cose perché questo è l'unico pensiero che si possa fare. Il resto non è possibile ottenere 35% in più di prestazioni a meno che non chiudi il processore, ecco. Ma non penso sia questo il caso.